Il progetto finalizzato alla cura e all'inclusione dei disabili, pensato dall'Associazione Il Percorso Verde di Carol, sposa la campagna vaccinale anti-Covid. Per questo l'amministrazione comunale di Santo Stefano di Camastra ha derogato alle disposizioni di sospensione delle manifestazioni per contrastare la diffusione del virus, autorizzando lo spettacolo equestre di beneficenza che si terrà venerdì 6 agosto alle 21 al Campo Sportivo della Città delle Ceramiche. Nel corso dell'esibizione verranno presentati obiettivi e finalità dell'Associazione e ci si potrà vaccinare senza prenotazione. Il Percorso Verde di Carol è il punto di arrivo e ripartenza nella storia personale di Cetti e Massimo. Genitori di Carol, affetta da un disturbo del comportamento, hanno affrontato il difficile iter di diagnosi e terapia, improvvisamente catapultati nel mondo fino a quel momento sconosciuto di dolore, incertezze e difficoltà, a volte isolamento e indifferenza, in cui si ritrovano le famiglie con bambini o familiari disabili. Insieme ad altre persone hanno deciso di fare rete per e con coloro che vivono la loro stessa condizione per tutte le altre Carol del territorio. Prende il nome dalla piccola Carol, che è nostra figlia, che dopo una disavventura avuta nel 2018 ha riportato dei disturbi del comportamento con vari problemi. Abbiamo deciso, insieme a mio marito, supportati dal sindaco Francesco Re, dalla preside Virginia Ruggeri dell'Istituto Comprensivo di Santo Stefano di Camasta, da Filippo Fratantoni, dall'Oase di Troina, di costituire questa associazione per portare a dare la possibilità a tanti altri bambini diversamente abili, anche normodotati, di potersi integrare con la comunità, di poter dar voce al dolore delle famiglie, di queste famiglie che vengono a volte abbandonate, non ascoltate. L'associazione, vivendo in una casa umile, un po' più dislocata dal paese, possedendo degli animali, abbiamo voluto mettere a disposizione il tutto per questi bimbi, per queste persone, per gli anziani, per tutti. Carol ha ricevuto tanto dagli animali, dal suo cavallo, dal suo pony, non per questo abbiamo deciso di contattare alcuni cavalieri, alcuni maestri dell'equitazione, alcuni artisti dell'equitazione che hanno dato la loro disponibilità, abbiamo riscoperto delle persone proprio dal cuore nobile, ci hanno dato la loro disponibilità per far sì che riusciamo ad organizzare un calai equestre, dove andremo a presentare l'associazione, lo scopo dell'associazione, che è quello di riuscire a fare della pet therapy, facendo delle convenzioni dell'ippoterapia e dell'onoterapia, che serve molto per disturbi psichiatrici. E mettere a disposizione il nostro conoscere, il conoscere delle persone qualificate a disposizione di tutti, perché penso che dopo il verbo amare, che è del più bello del mondo, esiste quello aiutare. L'aiuto che possiamo dare, che potete darci a noi famiglie, con familiari a carico, diversamente abili, è quello di un sorriso, un ascolto, un abbraccio, una parola di conforto e un po' d'allegria, che è quella che serve in questo periodo di Covid che ci ha chiusi nell'isolamento.